Ciao a tutti, io sono Daniela e oggi andremo a fare l'unboxing di queste fantastiche cuffie wireless. Ed ecco qui il nostro piccolo cubo pratico e maneggevole con una copertura trasparente sulla parte anteriore per non coprire la bellezza e la colorazione luminosa delle nostre cuffie, che si presentano con uno stile molto casual da tutti i giorni per portarle sempre con te. Gli auricolari richiamano lo stesso stile della sua custodia e sono di tipologia on-ear, ovvero che si appoggiano sul padiglione auricolare ed hanno, sul manicotto dell'auricolare, due piccole calamite che vanno a contatto nella custodia. Andiamo ora ad aprire la box ed al suo interno troviamo il cavo per ricaricarle di tipo C. Un QR code che rimanda al sito, un certificato di garanzia ed un piccolo manuale di istruzioni. Pregniamo presto,technica novela interno troviamo tutto ciò questo, e un concetto hoffe OlivatenNE12 Vogliamo horseman fare sulmente Grazie a tutti. Andiamo ora a configurarle al nostro dispositivo. Come prima cosa andiamo su Impostazioni, Bluetooth, diamo il tempo al dispositivo di trovare e riconoscere gli auricolari ed infine li connettiamo. Andiamo ora a sentire il vero suono che esce dalle nostre cuffie. Andiamo ora a sentire. Andiamo ora a sentire. Ciao!